C'è tempo per correggerlo sugli esodati, abbiamo una correzione molto precisa, l'abbiamo già corretto in Parlamento, bisogna correggerlo ancora di più perché ci sono migliaia di persone che si erano licenziate dalle loro aziende sulla base di accordi, si trovano a vedere spostata l'età pensionabile e sono senza pensione e senza stipendio, non possono vivere. Già una prima correzione è stata fatta sull'iniziativa parlamentare, insieme al governo troveremo la correzione anche alla seconda parte. Quindi non è una rivincita della politica questa scivolata? Non c'è né vincita né rivincita. Grazie.